Non chiamatela semplicemente piscina, esordisce il presidente Tombari durante la conferenza di presentazione alla stampa e dalle società sportive coinvolte nella sala del consiglio della fondazione in via Montevecchio questa mattina. È un impianto sportivo di alto livello, moderno e tecnologicamente avanzato con annesso un centro medico riabilitativo, tre vasche la cui principale sarà da 25 metri per 21 di larghezza con delle corsie più ampie da 2 metri e mezzo che consentono così più comfort in caso di due atleti per corsia in vasca contemporaneamente. Più piccola poi un'altra vasca per i corsi di nuoto ed una da 8 metri per 5, tutta dedicata ai bambini, il tutto per differenziare le attività in acqua ed avere spazi che corrispondono ai più moderni concetti ergonomici in ambito sportivo. Nuova concezione degli spogliatoi e dei percorsi per raggiungere gli impianti natatori, oltre a tribune che potranno ospitare fino a 250 spettatori per le manifestazioni sportive, un bar ed un'ampia hall. Insomma, per i fanesi a costo zero un impianto di cui andarne sicuramente fieri, degno della terza città delle Marche ed in linea con tutte le altre città con 60.000 abitanti che ne hanno già più di due. Non abbiamo inventato nulla però, sottolinea ancora il Presidente, abbiamo solo osservato ciò che c'è da altre parti, come a Carpi ad esempio, che ha un impianto, possiamo dire, gemello a quello che verrà realizzato a Fano e per il quale ci si è affidati ad una società leader a livello mondiale di Bologna in questo ambito. Devo dire che con grande soddisfazione ho ricevuto i complimenti da parte delle società che in genere sono molto attenti e conoscono bene le loro cose. La presentazione ufficiale di questo progetto avverrà invece alla cittadinanza intera sabato 22 di dicembre a Palazzo Bracci Pagani. Il nuovo impianto che una volta realizzato sarà uno tra i più moderni in Italia ha anche un altro aspetto da primato, la classe di risparmio energetico che è la massima consentita nella scala, una A4 con un notevole abbattimento dei costi di gestione. Fino ad oggi tutti hanno cercato di ostacolare questo percorso, un percorso che ci porta ad avere una struttura bellissima, modernissima, che dà una risposta che renderà orgogliosi tutto quel mondo che la utilizzerà e la città stessa. Qui un ringraziamento va alla fondazione che ha fatto un lavoro straordinario ma qui c'è un percorso condiviso tra fondazione e amministrazione comunale che porta dopo decenni, veramente, dopo tante chiacchiere, un risultato straordinario. Il nuovo impianto sorgerà praticamente in linea d'aria attraversata via dell'aeroporto nell'area di fronte agli hangar del campo d'aviazione, in un'area di 30.000 metri quadrati destinata anche a svilupparsi ancora in futuro e dove via San Michele sarà la via principale d'accesso. Il rollino di marcia parla per gennaio 2019 per l'inizio dei lavori e delle infrastrutture, mentre per marzo alvia il cantiere vero e proprio per la piscina e taglio del nastro e primo tuffo in vasca, salvo vari ed eventuali, per novembre 2020.